A tutti voi ben trovati a questa edizione del nostro Tgmed Rewind, l'edizione domenicale del nostro telegiornale che ripercorre alcuni degli eventi della settimana appena trascorsa. Iniziamo dagli innamorati palermitani che si sono ritrovati in fila alle poste di Palermo nella sede centrale dove un'iniziativa li ha sorpresi, un'iniziativa proprio in occasione della festa di San Valentino. Vediamo. Anche i romantici 2.0 non hanno rinunciato a scrivere un pensiero d'amore su un piccolo pezzetto di carta. Abbandonati anche se soltanto per un momento le tastiere di pc e smartphone messi da parte, tweet e post con proclami d'amore eterno condivisi su Whatsapp o Facebook, i innamorati di Palermo si sono ritrovati con carta e penna per la più tradizionale delle dichiarazioni d'amore. Se cerchi qualcuno d'amare guardati ben intorno, quel qualcuno ti ama già. Con sempre affetto da tutti noi. Adesso facciamo un anno di matrimonio, siamo felici, il primo San Valentino insieme da coniugi. E niente, adesso lo appendo, farò una foto e la mando direttamente su Whatsapp. A Mon Grand Amour, Ariel Franco. Rimane, la scrittura è un'impronta dell'anima e rimane e viene conservata al contrario invece dei messaggi o di tutte le e-mail. A proporre l'iniziativa Poste Italiane. L'iniziativa consiste nel coniugare perfettamente le forme di comunicazioni digitali e tradizionali. Poste Italiane nel tempo si è sempre fatta portavoce di una valorizzazione della scrittura, chiaramente anche calandosi in quello che è l'era digitale. Le coppie di innamorati potranno rivedere i loro messaggi anche sul profilo Facebook di Poste, regalandosi, perché no, una cartolina filatelica realizzata per l'occasione. E che siate nostalgici o patiti delle nuove tecnologie, singolo, felicemente in coppia, se è vero che oggi un post sul web è per sempre l'amore, quello vero, lo è di più. Dopo 40 anni è come il primo incontro, emozionante. 40 anni dopo come il primo giorno, sei insostituibile. E se la Sicilia è al passo con l'Unione Europea, l'Istituto Comprensivo Laura Lanza, baronessa di Carini, lo è altrettanto. All'interno di questa scuola è infatti possibile trovare delle aule 2.0, dove gli alunni apprendono anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Pensate, a ciascuno di essi è stato affidato un iPad, che sarà uno strumento di collegamento tra alunni, genitori e docenti, nonché anche uno strumento di lavoro. Guardiamo le interviste di Qualtiero Sanfilippo. Utilizziamo la classe virtuale, piattaforme virtuali che ci permettono di stare sempre connessi, non sempre diciamo, ma spesso connessi con i ragazzi, controllare il loro lavoro anche a casa. Quindi è un modo anche per avere una relazione più stretta con i ragazzi, che non si esogisce nelle sei ore di scuola. Un sistema educativo e volto al digitale, praticamente risponde alle esigenze della Commissione Europea 2020, infatti la classe si chiama 2020, che sono quelle dell'innovazione, della sperimentazione, e del cercare di trovare tutte le metodologie più efficaci, per un apprendimento efficace, effettivo, e che possa dare ai ragazzi un accesso effettivo al mondo del lavoro. I progetti realizzati sempre in via sperimentale con la tecnologia hanno confermato che i ragazzi trovano adeguate queste soluzioni per portare avanti forme di apprendimento che gli riescano più compatibili, anche se non devono essere considerate come alternative, rispetto a quelle tradizionali con libro di studio, eccetera, piuttosto complementari. Praticamente c'è un controllo in educazione al corretto uso del digitale, che è uno strumento bellissimo, innovativo, ma bisogna saperlo usare. È come camminare nel mondo, camminare in mezzo alla strada, e sapere da chi ci si deve guardare. La stessa cosa è internet. Internet è camminare per la strada in maniera virtuale. Bisogna sempre sapersi guardare da siti sbagliati oppure non corretti. Ci attendiamo di provare con i ragazzi di questo corso cosa significhi non solo usare la tecnologia disponibile, ma far sì che non sia obiettivo di apprendimento, quanto piuttosto strumento per raggiungere altri apprendimenti. Se la scienza non è il vostro forte, se non sapete perché e come mai si verificano alcuni fenomeni, come per esempio i terremoti e il caso di fare un salto all'Università di Palermo, dove è in corso l'iniziativa Esperienza Insegna. Noi ci siamo stati con Marianna Grillo. Secondo l'Osservatorio Scienza, Tecnologie e Società, le conoscenze scientifiche degli italiani diminuiscono al crescere dell'età. A confermare questa tendenza costante negli anni sono i bambini e i ragazzi di Esperienza Insegna. Avete sempre sentito parlare di effetto serra, ma non sapete cos'è? Nulla di più semplice. L'effetto serra è un fenomeno naturale che viene nell'atmosfera terrestre. Esso consiste nella capacità dell'atmosfera di trattenere parte del calore da dietro dalla superficie terrestre, prima che si disperda nello spazio. Se invece l'espressione indice biotico esteso vi lascia perplessi, anche in questo caso nessun problema a spiegare tutto, ci pensa un giovanissimo ricercatore. Sono degli animali che stanno all'interno dei corsi d'acqua, sono degli indicatori che specificano, spiegano se questi corsi d'acqua sono inquinati o no. Non mancano poi i geologi e ingegneri, in questo caso modellini alla mano per spiegare i terremoti e le strutture antisismiche più moderne. Con le onde sismiche si spezza e fa delle grepe, il suono si alza e si abbassa e provoca danni alle città, alle case, alle campagne e altri luoghi. Questa è una struttura antisismica, alimentata da un motorino, e invece questa non è una struttura antisismica, ed è alimentata pure da un motorino. Se vedi, questa cade. A completare il quadro non poteva mancare la categoria dei chimici, alle prese con i segreti e i pericoli dei detersivi fatti in casa, con qualche consiglio utile anche per il make-up. In questo caso è un qualcosa di non molto pericoloso, però abbiamo studiato, abbiamo anche visto, che alcuni componenti possono sprigionare delle sostanze che sono molto tossiche e dannose per l'uomo. Cera d'api, qua in fase solida, poi vado a mettere a bagnomaria, con acqua calda, in modo da fondere la cera d'api. Una volta che si è fusa la cera d'api, prendo olio di mandorle e lo aggiungo a goccia. E mescolando viene fuori questa crema. Se come noi siete rimasti un po' stupiti dalla preparazione e dalle conoscenze di questi giovani scienziati, non vi resta che fare un salto all'Università di Palermo. E chissà, con questi divulgatori in erba, il mondo della scienza da oggi sarà meno misterioso. Torniamo ad occuparci adesso del campo Rom della favorita di Palermo. Nel corso di questa settimana le forze dell'ordine hanno fatto irruzione, effettuando controlli all'interno del campo per verificare se ci siano eventuali extracomunitari non regolari, anche per controllare le condizioni igienico-sanitarie, in cui vivono un centinaio di persone, tra cui anche bambini. Noi c'eravamo già occupati della vicenda. Vi riproponiamo il nostro servizio andato in onda prima del blitz dei carabinieri. È l'area verde più estesa di Palermo, un polmone grande circa 400 ettari, situato ai piedi della riserva naturale di Monte Pellegrino, un luogo dove il verde si sposa con i colori e le architetture di fino 800 della palazzina cinese. Il parco della favorita muta e si trasforma negli anni, tenendo il passo di una città in evoluzione, dallo stadio Barbera sino a Villaniscemi, oggi sede di rappresentanza del comune di Palermo. Eppure c'è qualcosa che qui è rimasta identica, almeno negli ultimi vent'anni, ed è il campo che al suo interno ospita un centinaio di nomadi in condizioni di vita non sempre rispettose degli standard di sicurezza e di igiene. Quello che inizialmente sembrava un provvisorio campo nomadi con rulotte e baracchie appare oggi come una collocazione definitiva, formata da numerose costruzioni in mattone, che non sembrano rispettare le norme in tema di urbanistica e di fatto sono abusive. Dal campo, illuminato durante la notte, una serie di matasse di cavi elettrici partono e arrivano seguendo percorsi di sicuro non tracciati dalla società che gestisce la rete pubblica, senza alcuna preoccupazione né controllo al rischio innanzitutto di chi abita nel campo. Il tutto sotto l'occhio pare poco attento del comune, tra rimpalli di competenza così come sostengono alcuni residenti. Vivono in condizioni pericolosissime per loro ma anche chiaramente per i cittadini, quindi non credo che la soluzione sia sbatterli così, quindi bisogna dare dignità a loro e chiaramente restituire questo parco a tutti i cittadini. È chiaro che massima solidarietà nei confronti di persone che sono fuggite dalla guerra e dalla povertà tanti anni fa, però certo non è una soluzione gettarli nel parco cittadino più esteso d'Italia, nell'unico polmone verde di Palermo e permettere loro che possano fare roghi tutto il giorno con fra l'altro fumi tossici, copertoni, gomme, plastica che bruciano praticamente quotidianamente non permettendo a me, tanto come cittadino, di poter respirare aria salubre, ma anche in qualità di corridore, quindi di fruitore del parque. Io qualche giorno fa mi sono sentito male, ho avuto problemi respiratori a causa di questi fumi tossici. C'è un rimpallo continuo di responsabilità, i vigili del fuoco dicono che è di competenza della polizia, la polizia dice di competenza del vigile del fuoco, chi dei carabinieri, quindi è assolutamente inutile. I residenti continuano a fare le loro segnalazioni, talvolta cercando di filmare le attività illecite di alcune persone che abitano il campo Rom, ma dalle segnalazioni quasi mai si arriva ai fatti. Siamo impegnati da una parte a garantire condizioni di presenza le più civili possibili per gli abitanti della zona e per gli stessi Rom, la nostra prospettiva è quella di eliminare questo campo Rom dando una diversa sistemazione a coloro che abitano all'interno di questo campo, ma ripeto, il cui numero si va progressivamente riducendo perché via via che si vanno liberando questi immobili provvediamo alla loro demolizione. Palermo, che si appresta a diventare la capitale della cultura nel 2018, con particolare riferimento alla cultura dell'accoglienza, rappresenta quella mescolanza dove convivono in pace diverse culture ed etnie, ma è anche una città dove le mille contraddizioni possono minare il campo della convivenza pacifica. Si dice amareggiato e chiede scusa all'assessore regionale alle politiche sociali e alla famiglia Gianluca Miccichè dopo le polemiche che lo hanno travolto in seguito al servizio delle Iene, che vede i fratelli palermitani, pellegrino, tetraplegici e costretti a aspettare l'assessore otto ore in sala d'attesa per poi non essere ricevuti. Poi spiega all'assessore quanto è stato fatto per la disabilità e lancia intanto qualche accusa ai detrattori. Il servizio è di Luca Tutone. Eludere i problemi e le situazioni difficili non è mai stata una sua abitudine in un anno di governo, per questo ha sentito il dovere di scusarsi con i fratelli Pellegrino. Gianluca Miccichè parte dall'unico gesto che poteva placare il vortice di critiche e polemiche dopo il servizio mandato in onda dalle Iene, in cui Gianluca e Alessio, che da un anno aspettano risposte sull'assistenza sanitaria domiciliare cui hanno diritto, sono addirittura all'inseguimento di un'auto blu in fuga dal parcheggio dell'assessorato, esasperati dalle quasi otto ore di anticamera, senza aver ricevuto la minima assistenza ma solo indifferenza. Miccichè dice di non essere stato avvisato della presenza dei due tetraplegici e il giorno dopo ha un solo modo per chiedere scusa, spiegare quanto già è stato fatto e quanto ancora c'è da fare per l'assistenza ai disabili. Dice di aver mantenuto le promesse fatte nel 2016, avendo finanziato con 100.000 euro per distretto e fatto partire il progetto sperimentale Vita Indipendente. I fratelli Pellegrino, pur essendo rientrati in graudatoria, non hanno potuto beneficiare dei contributi del 2014 a causa dell'esaurimento dei fondi. Per il 2015 il distretto sociosanitario di Palermo ha ritenuto di non inserirli ed è ancora per il 2016 il Comune di Palermo non ha presentato i progetti per entrare in graduatoria. Nel frattempo, dice l'assessore regionale alla famiglia, ci siamo adoperati tramite una cooperativa che beneficia di contributi da parte della Regione. In questo modo Gianluca e Alessio, che in base al piano personalizzato redatto dall'Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ASP del Comune hanno diritto a sei ore di assistenza domiciliare, ne avranno garantite quattro per tutto il 2017. Miciche dunque fa scudo e va al contrattacco, rilanciando la richiesta di attivazione di un fondo regionale per la disabilità, come nel resto delle regioni d'Italia, dove far confluire, oltre alle risorse nazionali, i fondi regionali. Poi la notizia che ridà la speranza ai fratelli Pellegrino si sta lavorando alla redazione del programma attuativo per la gestione del fondo nazionale dopo di noi, per il quale la dotazione finanziaria per il 2017 è pari a circa 7 milioni di euro, in cui potrebbero rientrare a pieno titolo i fratelli Pellegrino, che sempre tramite il distretto sociosanitario beneficerebbero di un'assistenza continuativa. Insomma, la battaglia dei fratelli Gianluca e Alessio per i servizi assistenziali, di cui necessitano gli oltre 3.682 disabili gravissimi presenti in Sicilia, per i quali occorrerebbero oltre 500 milioni per un'assistenza domiciliare H24, a fronte dei 40 disponibili per il 2017 e per i quali oggi le uniche risorse disponibili provengono da fondi nazionali. Scusa e speranze, ma anche qualche sassolino da togliere. Se mi si contesta il merito di provvedimenti che ho assunto, me lo si dica e sono pronto al confronto con chiunque. Ma se ci sono problemi politici, perché ormai siamo in piena stagione elettorale, conclude Miciche, voglio saperlo. In questo caso sono disponibili ad affrontare qualsiasi discussione e fare anche un passo indietro. Parliamo di amministrazioni giudiziarie, formare gli amministratori appunto chiamati a gestire le aziende confiscate o sequestrate alla mafia. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato a Palermo dal presidente dell'autorità nazionale, Raffaele Cantone, e il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari. Il protocollo apre ad un corso di formazione professionale appunto per mantenere alto il livello di competenza di chi è chiamato a gestire queste aziende nel rispetto dell'azienda stessa e dei lavoratori. Bisogna cambiare l'idea che i beni, diciamo, siano un'occasione semplicemente di una zavorra ulteriore per lo Stato. Possono essere invece un'occasione di start-up, soprattutto benvenga quando vengono affidate a cooperative, a realtà che sono in grado di produrre lavoro e non di produrre ulteriori eoneri economici per le istituzioni. Però è evidente un punto. Le imprese mafiose non devono essere un aggravio per lo Stato, devono essere un'occasione anche dal punto di vista delle occasioni di lavoro. E in questo la professionalità degli amministratori giudiziali è assolutamente indispensabile. Oggi in realtà abbiamo fatto tre cose, perché abbiamo presentato, o meglio, abbiamo firmato questo accordo con l'ANAC, che è un accordo molto importante sul fronte della formazione e anche sul fronte della ricerca. E questo è il primo aspetto. Abbiamo presentato questo progetto di uno spin-off universitario e quindi di una impresa che partendo dalla ricerca, poi dopo trasferisce sul territorio e alle imprese, trasferisce delle buone pratiche, da un punto di vista proprio della gestione, scevra da infiltrazioni, della gestione quindi di situazioni particolarmente complesse. Terzo, questo corso di formazione appunto sugli amministratori giudiziari che si provi a formare questi amministratori nel modo migliore possibile sulla base di competenze diversificate, perché poi anche lì la trasversalità delle competenze e avere una quantità di conoscenze molto ampia e fondamentale credo che sia assolutamente determinante. Questo è, d'altra parte, il ruolo di una università, una università in un territorio deve essere capace di riuscire ad offrire al territorio quel bagaglio di competenze e di conoscenze che poi permette di vivere e di lavorare meglio. A meno di 100 giorni dal G7 di Taormina cresce l'allarme sulle condizioni in cui versano attualmente i luoghi e le strutture che dovranno ospitare sia i lavori che le delegazioni. Poco o nulla è stato fatto e il rischio di una figuraccia di livelli internazionali diventa sempre più concreta. Non vogliamo che Taormina venga ricordata per un vertice raffazzonato, dice il sindaco di Taormina, come ci spiega nel servizio Luigi Perollo. Le immagini e le interviste sono invece a cura di Andrea Tutte il Mondo. La frase di questi giorni è una sola, forti ritardi. I lavori per ristrutturare e adeguare diversi luoghi interessati dalle occasioni del vertice, dalle sale e riunioni a quelle per le delegazioni, dagli alberghi e luoghi d'incontro, sino alla viabilità e all'abbellimento estetico, non sono ancora partiti o procedono a passo di lumaca. La figuraccia internazionale è dietro l'angolo per il sindaco di Taormina Eligio Giardina che raccoglie anche le paure del presidente nazionale dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, secondo cui ci si doveva muovere prima, anche se Taormina non è la Maddalena, dove tutto venne realizzato quasi da zero, salvo poi di ruotare il vertice all'Aquila dopo il terremoto. Adesso, finalmente, il Consiglio Comunale ha approvato la variante al piano regolatore per realizzare una delle due aviosuperfici previste per far atterrare gli elicotteri con i capi di Stato e di Governo presenti al Summit. Anche in questo caso le spese saranno a carico del Governo nazionale, così come confermato dalla conferenza di servizi del G7. Ma per il resto tutto appare ancora fermo. Abbiamo presentato dei lavori utili per l'evento da farsi entro il mese di maggio. Purtroppo, per motivazioni che non sono difese né da me certamente, ma neanche dal Governo nazionale, mi riferisco agli episodi legati al terremoto, al referendum, al cambio, alla presidenza del Consiglio, abbiamo dei notevoli ritardi nella nomina del commissario. commissario che è stato nominato nel mese di gennaio con ampi poteri di deroga e io spero su questo per fare in modo che sia lui in grado di iniziare e completare i lavori indispensabili per l'evento. Soprattutto vogliono sapere, non riusciamo a sapere, quali sono le zone rosse, le zone verde, le zone proibite, quando si deve entrare. Qui c'è una marea di alberghi piccolini e grandi che non sanno a cosa dire ai clienti, se possono entrare, non possono entrare, quando possono prenotare. Io non penso che accadrà, perché non è che fa brutta figura a Taormina, ma fa brutta figura all'Italia, fa brutta figura il Governo, fa brutta figura tutta la politica italiana, specialmente la politica siciliana, che non si sta interessando di Taormina. In città ci sono i primi fermenti, perché le persone sono molto preoccupate, perché non vedono iniziare i lavori. Ma io credo che alla fine, con la buona volontà dell'amministrazione, in collaborazione con il Consiglio Comunale, con tutte le associazioni, tireremo fuori il meglio che possiamo, naturalmente. Una norma ispirata alla Sardegna, quella che debutterà al Teatro Massimo di Palermo. Fra le novità, la prima riguarda la regia affidata a Ugo Giacomazzi e a Luigi Di Ganci, due siciliani nati attori, che si sono poi formati con il Teatro Sociale e di strada. Vediamo. Questa è la norma nostra, ingabbiata, che non si riconosce nelle leggi di cui lei stessa è vittima e non si riconosce in questa gabbia, in questa foresta in cui i druidi si nascondono e si proteggono perché l'amore la proietta fuori. E nel momento in cui riconosce che lei è ammette «son io la colpevole, sono io la rea» e libera Apollione, lei capisce che non c'è bisogno di appartenere a nessuna legge e che quindi può essere proiettata verso il futuro, verso l'universo. È una norma alchemica, una norma arcaica, una norma che deve moltissimo a un'artista sarda, Maria Lai, che pochi purtroppo conoscono, che lavorava con dei materiali molto semplici, quindi fili, tessuti, ma che nelle sue opere era proiettata verso l'universo cosmico. Da un punto di vista musicale, io tendo sempre a avere un tipo di suono per ogni autore, quindi in questo caso la famosa melodia belliniana, che è coinvolgimento emotivo, ma anche astrazione totale, quindi il risultato deve essere di una purezza estrema. Parliamo adesso di esplorazioni spaziali. È un palermitano ed è anche il responsabile del coordinamento dei programmi scientifici di esplorazione ESA. Si tratta di Fabio Favata, fra i testimonial anche dell'iniziativa Esperienza Insegna. Lui abbiamo affidato il racconto di alcune esperienze come la missione Rosetta e anche Anges, ma anche ci ha parlato dei fallimenti. come nel caso di Marte. Il servizio è di Luca Salerno. Così apriva Titano alla sonda Hagens durante la sua discesa, avvenuta il 14 gennaio 2005, alla fine di un viaggio lungo sette anni. Il video ricostruisce il momento principale della missione, una svolta nell'esplorazione spaziale. Hagens doveva trasmettere informazioni per appena 15 minuti, continuano a farlo invece per oltre due ore. Composizione dell'atmosfera, velocità dei superventi, conformazione del terreno, dati senza precedenti e studiati ancora oggi. Ma Hagens raggiunse anche un primato che resta ancora imbattuto. Nessun'altra sonda è riuscita infatti ad atterrare una distanza così lontana dal Sole. Un successo firmato agenzia spaziale europea per un progetto in collaborazione con la NASA. E proprio all'agenzia americana è affidato il gran finale della missione. Nel settembre prossimo la sonda Cassini raccoglierà informazioni preziose sul pianeta Saturno prima di scomparire nell'atmosfera e terminare un progetto iniziato vent'anni fa. È stato un viaggio lunghissimo che ci ha permesso di esplorare per la prima e unica volta un mondo per molti versi molto simile, per molti versi diversissimo dalla Terra. Titano è l'unico corpo del sistema solare che ha dei laghi, dei fiumi, però non sono fiumi e laghi di acqua ma di idrocarburi, di metano, di gas liquido. Quindi è un mondo affascinante, diversissimo e questo è stato un'eccezionalità europea. Dunque pianeti, tecnologia, robot, ma l'esplorazione spaziale è innanzitutto una storia di persone dunque fatta non solo di successi, recentemente la missione Rosetta, ma anche di sconfitte. Il 19 ottobre del 2016 l'Ender Schiapparelli inizia il suo atterraggio su Marte. I razzi che dovevano rallentarne la discesa si attivano per appena 3 secondi invece dei 30 previsti. Il risultato è uno schianto oltre 300 km orari sullo pianeta rosso. La fase critica del rientro, quella in cui la sonda ha impattato con l'atmosfera marziana ed è stata frenata l'attrito dell'atmosfera, ha funzionato molto bene. Gli ultimi minuti sono stati quelli che avremmo ovviamente intensamente desiderato andassero bene, purtroppo non siamo andati bene, ma abbiamo accumulato una base di conoscenze che sicuramente ci permetteranno di fare meglio la prossima volta con la sonda ExoMars 2020 che verrà lanciata appunto fra meno di 4 anni, fra 3 anni e qualcosa. L'atterraggio sulla Luna 48 anni fa portò una serie di promesse sul futuro dell'esplorazione spaziale, coloni umane, viaggi interplanetari, esplorazioni oltre il sistema solare. Quasi 50 anni dopo però tutto questo resta solo fantascienza. Per fare cose ancora più ambiziose ci vorrebbe una spesa pubblica in questo settore ancora più alta e oggi non vi è più la spinta politica e vi è inoltre appunto un salto tecnologico significativo. Andare per l'esplorazione umana di Marte è estremamente più complessa di quella della Luna, quindi non voglio dire che non sia fattibile, ma non è un'impresa semplice. E' tutto per questa settimana, vi ringraziamo per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione del nostro TG Med Rewind. Arrivederci. Arrivederci.